Ciao e benvenuto su Meglio di Bere, io sono Imma ed oggi parliamo di tappi. Prima sigla! Se sei interessato al mondo del vino non dimenticarti di iscriverti al canale per poter vedere in futuro più contenuti esattamente come questo. In commercio ci sono diversi modi per poter chiudere una bottiglia di vino. Oggi parliamo dei modi per chiudere una bottiglia di vino in vetro. Le caratteristiche della chiusura devono essere tre. Deve essere in grado il tappo di tenere l'ossigeno al di fuori della bottiglia, di non modificare quelli che sono i profumi del vino e i suoi sentori e deve essere facile da inserire e da rimuovere dalla bottiglia, perché le bottiglie, signori, alla fine le dobbiamo aprire. Il re dei tappi è il sughero. Le qualità del tappo da sughero sono la sua flessibilità e l'essere inerte, quindi non cede nessun sapore al vino, a meno che il tappo non sia stato infestato da un fungo ed abbia generato quella che è la moletta del TCA, una molecola che crea l'odore da tappo. Una volta che il TCA è presente nel tappo, verrà trasmesso poi al vino. Una volta trasmesso al vino, il vino è indiridibile. Non si beve, non ci provate. Sentite l'odore del tappo, non vi passate la bocca. Non si beve. Non so se sono stata chiara. Non si beve. Il più grande produttore di sughero al mondo è in assoluto il Portogallo. In Italia una riserva di sughero è presente soprattutto in Sardegna. Ma il sughero non è sufficiente ed ancora la paura del sentore di tappo guidano i produttori verso altri tipi di chiusure. Nell'immaginario collettivo l'apertura della bottiglia con il tappo da sughero è molto più romantica ed in realtà viene comunque associata a quello che è un lungo affinamento. Infatti i tappi più lunghi, anche di maggiore qualità, vengono utilizzati per chiudere quelle bottiglie che si prevede avranno un affinamento molto lungo. Mentre la grande alternativa al sughero è il tappo tecnico o meglio conosciuto come DIAM. DIAM dal nome del produttore più famoso di questa tipologia di tappi. I tappi DIAM sono invece un agglomerato di piccoli pezzettini di sughero messi insieme dalla colla. Quando dico colla, non intendo dire che poi il vino puzzerà di colla. Infatti questi tappi sono comunque in grado di non cedere alcun sentore al vino e di permettere una chiusura ermetica. Quindi di lasciare l'ossigeno fuori dalla nostra bottiglia. L'ossigeno grande nemico del vino. Se sei interessato a saperne di più sull'ossigeno e sul vino, allora magari potremo fare in futuro un altro video. Altrimenti questo video, come anche gli altri che hai visto, non finisce più. In generale il sughero rincollato e quindi il tappo tecnico viene utilizzato per quella tipologia di vini che non prevedono un affinamento lungo. Anche se è comunque una scelta del produttore. Molti infatti spaventati dal TCA e grandi quantità di vino che possono essere perse, utilizzano questo genere di tappi anche per bottiglie che non me ne vogliate, io essendo una gran romantica non ho piacere di aprire. Se infatti i grandi vini di Borgogna c'hanno il truciolato all'interno, sinceramente un po' la poesia nell'apertura della bottiglia si perde. Però è comunque comprensibile che ogni produttore fa quel che può. Un'alternativa al tappo sintetico è il tappo in plastica. Non guardatemi così e non fate quella faccia. Esistono anche i tappi in silicone. Questi tappi in silicone in realtà sono un pochino troppo rigidi e non sono preferibili perché nel lungo andare possono portare delle modifiche a quello che è il compatto aromatico del vino e anche perché è un pochino più difficile reinserirli all'interno della bottiglia e quindi creano un po' più di difficoltà. Oltre che comunque l'idea della plastica fa allontanare il consumatore finale ancora di più dal romanticismo nell'aprire una bottiglia di vino. Alternativa molto popolare invece dell'ultimo periodo è lo screw cup o tappo a vite. Il tappo a vite è essenzialmente una chiusura in alluminio della bottiglia in vetro. Una chiusura che permette una rapertura molto più facile rispetto a quella del tappo tradizionale in quanto il tappo a sughero e il diam o comunque in generale le altre chiusure prevedono l'utilizzo di uno strumento esterno quale sia il cavatappi cosa invece che il tappo a vite esclude. Molto più diffuso nel nuovo mondo il tappo a vite ha un grande pro quello dell'economicità. Costa di meno essenzialmente ed è più facile da reperire. L'unico problema diciamo che vi è un preconcetto importante rispetto a quella che sia la capacità del tappo a vite di poter essere utilizzato per vini adibiti ad un alfinamento più lungo. In realtà è un preconcetto solo del vecchio mondo perché ci sono dei vini di grandissima qualità che vengono chiusi invece con il tappo a vite in Australia per esempio. Senza dimenticare che il tappo a vite permette ugualmente l'esclusione dell'ossigeno dalla bottiglia componente fondamentale quando si sceglie la chiusura più adatta. E dulcis in fundo che in realtà non è tanto dolce almeno per quanto mi riguarda perché è il meno romantico di tutti è il tappo a vetro. Ebbene sì che bottiglie di vetro possono essere chiuse anche con il vetro. Il tappo a vetro solitamente ha una forma molto piccola e all'interno ha una componente in silicone che permette al tappo di aderire al collo della bottiglia. Bottiglie che vengono riadattate per poter essere utilizzate con un tappo in vetro. Motivo per il quale questo genere di tappi risulta molto costoso e poco utilizzato. Anche se alcuni ritengono che la chiusura con il tappo a vetro possa somigliare a quella con il sughero in termini di longevità del vino. Detto ciò ogni produttore sceglie il tappo che gli pare. Questo perché ci sono diverse componenti che portano un produttore a scegliere il tappo. L'economicità, quindi quanto costa, la riperibilità e la tipologia di vino che si vuole andare a produrre. Cerchiamo semplicemente di eliminare dalla nostra testa il preconcetto secondo cui i tappi da sughero fanno dei vini di qualità il restante invece dei tappi fanno dei vini di minor qualità perché spetta al produttore e solo al produttore decidere la qualità del proprio vino, la tipologia del proprio vino e con cosa chiuderlo. A noi l'unica cosa che spetta l'unica cosa che dovremmo veramente considerare è quanto è facile aprire quel vino quanto siamo in grado di aprire quella bottiglia e qual è il modo migliore per poterla bere perché il vino viene fatto per essere bevuto e i tappi sono solo uno strumento. Queste le chiusure più popolari se ne conosci altre lasciamelo scritto nei commenti in modo che possa fare io delle ricerche a riguardo e conoscere ed imparare qualcosa di più insieme. Se vuoi invece saperne di più sui difetti del vino come per esempio il TCA preparati al pippone e lasciami un commento in modo che io sia spronata a creare un video apposito per esso. E non dimenticare se hai apprezzato questo video di iscriverti al canale perché più video come questo saranno prodotti. Per il momento ciao e alla prossima!